E questa mattina davanti all'ospedale Santa Croce c'era anche il candidato sindaco Giancarlo Danna. Siamo qui per denunciare ancora una volta quello che avevamo già denunciato in passato e che sta avvenendo. Noi ci meravigliamo che quotidianamente ci sia qualcuno che prima ha voluto l'integrazione con l'ospedale di Pesaro che oggi denuncia quello che era già scritto nelle carte. Siamo qui da due ore, abbiamo parlato con moltissimi cittadini che smentiscono quello che la direzione continua a dire. Qui si sta smantellando un ospedale, ci sono delle responsabilità precise che sono la costituzione dell'azienda Marche Nord per la quale l'amministrazione comunale si è sempre vantata. C'è il direttore Ricci che continua a vendere le favole, invece qui è una realtà drammatica e ce lo confermano tutti coloro che entrano ed escono da questo ospedale che non è più un ospedale. È un presidio, è un presidio che si sta svuotando giorno dopo giorno ed è inutile lanciare oggi degli allarmi. O si prendono dei provvedimenti oppure si tace, si deve avere la dignità di tacere, soprattutto coloro che hanno voluto l'integrazione con Pesaro. E adesso l'unica cosa da fare è approvare la proposta di legge che già esiste in Regione e che è quella che vede Fano con Fano e Pesaro con Pesaro. Siamo stufi di subire tutte queste angherie da Pesaro.